E' una delle capitali del turismo mediterraneo ed europeo. E' forse una delle capitali del turismo del mondo. Su questo presupposto il ministro dell'interno Marco Minniti ha sancito che la provincia di Rimini si merita un apparato di sicurezza più ricco. Nell'appuntamento in prefettura con tutti i sindaci del territorio è stato siglato un patto storico, quello che consente l'elevazione di grado della questura di Rimini. Secondo le prime anticipazioni arriveranno fra i 70 e i 100 agenti di polizia in più. Ed è per questo che dentro il patto c'è il fatto che la questura di Rimini sarà elevata di rango, perché appunto se il professivo ragionassimo come detto i parametri abbiamo una questura che è dentro un comprensorio che è particolarmente ricco ed impegnativo. La sede di via Ogubassi per la nuova questura sarà aperta tra il 2019 e il 2020, ma dal febbraio del prossimo anno inizierà il trasferimento degli uffici verso la sede temporanea di Piazzale Bornaccini che dovrebbe completarsi entro l'estate prossima. Partiamo da una questura mancata e rispondiamo con una cittadella della sicurezza in cui insieme le forze di polizia trovano un luogo dove poter lavorare. Ora, qual è il messaggio più forte che possiamo dare ai cittadini di Rimini nel suo comprensorio? Che il luogo più sicuro è quello più vissuto, cioè noi non chiediamo a nessuno di chiudersi in casa.